buongiorno buon martedì bentrovati nel canale benvenuti in questo nuovo video video che apre la settimana tennistica parlando di ciò che è successo ieri di ciò che è successo lunedì prima di parlarne l'invito è come al solito iscrivervi al canale lasciare like al video attivare la campanella per le notifiche andare sul sito del fanta tennis ovviamente per scaricare il regolamento per scaricare il calendario per capire come funziona il gioco e per poter partecipare a partire da montegarlo avrete la chance di entrare nella classifica dello slam rosso classifica che regalerà un posto alle atp finals e quindi alla possibilità di giocarsi uno dei premi in palio allora cosa è successo ieri è stato un bel lunedì perché è stata una giornata dove ovviamente è la settimana di passaggio tra i mille sul sul cemento e i mille sulla terra quindi tornei sono minori però abbiamo avuto un buon risultato a livello di italiani in gara considerando il derby tra a storilla tra fabio fognini e e giannessi un italiano lo avremo sicuramente avuto al secondo turno ed è fabio fognini che ha vinto agilmente 6 2 6 1 contro un giannessi che non ha saputo opporre resistenza al talento del ligure talento in declino per ovvi motivi fisici ma comunque sempre talento fognini fino all'avvento di questa generazione era indubbiamente il tenista più forte avuto negli ultimi 30 anni critiche più critiche meno non gli possiamo lo possiamo tra virgolette accusare non avere avuto testa di di essere un pazzo di essere uno psicopatico però sul talento il talento di fabio soprattutto su terra battuta non si discute assolutamente quindi era una partita a senso unico e lo è stata perché insomma fabio ha vinto facilmente senza troppi problemi giannessi si farà però ancora insomma l'allievo come disse qualcuno di spaghetti deve mangiare prima di battere il maestro e giannessi oggi ha dimostrato che fognini pura fine carriera è tuttora un giocatore di un'altra categoria nei confronti di giannessi la sorpresa secondo me più positiva viene da non lo so se viene da cecchinato che ha battuto in una partita che nel secondo set è stato uno psicodramma perché insomma schwarzman è andato avanti 5 2 nel time cioè partiamo da prima cecchinato nel secondo set arriva due volte a servire per il per vincere la partita subisce subisce due break si fa riprendere va al tie break nel tie break si ribaltano le parti va avanti va avanti 5 2 schwarzman con doppio mini break sembra finita schwarzman fa primo doppio fallo e poi perde il secondo turno di servizio regalando la possibilità a marchino di rientrare nel nel set a quel punto le occasioni si sprecano perché marco arriva ad avere arriva ad avere tre set tre match point di cui due di cui il primo in risposta il secondo al servizio nonostante tutto nonostante tutto sul 76 marco perde entrambi i servizi set point schwarzman al servizio altro punto vinto in risposta da cecchinato che ne vince due a fila arriva ad avere il match point sul 98 e questo è quello definitivo e che permette a cecchinato di passare il turno sfiderà fognini nel prossimo turno ripeto l'entusiasmo è per il nome battuto schwarzman è in un momento di calo e adesso gli arriveranno delle cambiali assolutamente importanti rischia seriamente di uscire dai cento però insomma lo scalpo preso da preso da da cecchinato di quelli è il nome di quelli importanti soprattutto sui tornei in terra altro scalpo importante se lo è preso il nostro passaro che ha battuto l'ex top 10 l'ex top 10 perché karatsev è stato vicino ad essere top 10 se non erro è stato è stato anche top 10 e lo ha battuto in in tre set set sette cinque tre sei sei tre una una sorpresa ma non più di tanto perché comunque la classifica di passaro è addirittura migliore di quella di karatsev bisogna un attimino pensare che quando si criticano alcuni giocatori karatsev aveva fatto semifinale agli australian open e adesso è fuori dai 100 quindi signori la continuità a questo gioco è molto complicata il il torneo perfetto può riuscire a chiunque il restare in nei primi 20 nei primi 10 nei primi 30 nei primi 50 vuol dire essere veramente forti questo sia per chi in passato si era presa con fognini fognini è stato è stato dieci anni top top 50 insomma non è facile a questi livelli come vedete karatsev aveva trovato la settimana dell'anno in quella australian open se non erro di due anni fa e adesso naviga a cercare di rientrare nei cento a cercare di rientrare addirittura nei tabelloni degli slam quindi bella vittoria di passaro anche qua lo scalpo non è tanto la difficoltà della partita ma il nome della del del giocatore battuto passaro che al secondo turno del torneo affronterà uno tra gas che e miller onestamente una partita che si può fare è una partita che passaro può anche vincere chiaro partirà partirà sfavorito contro entrambi i giocatori però insomma intanto ha un giorno di riposo in più e poi si vedrà quindi un lunedì buono per quanto riguarda le nostre seconde leve mettiamola così i nostri top ad esclusione di musetti che entrerà in in tabellone in quel di marrakesh e musetti ha bisogno di fare punti ha bisogno di fare punti perché insomma la spedizione su sulla terra sulla terra sudamericana non è andata bene i 2000 non sono andati benissimo adesso bisogna ripartire e cercare di fare punti monte carlo secondo me per musetti è un è un mille già troppo complicato cioè nel senso che quello che voglio dire è che ha più probabilità musetti di fare 250 punti in questo torneo piuttosto che arrivare in semifinale che ne vale 360 a monte carlo quindi è vero che il mille vale meno che il mille vale più di un 250 però è anche vero che in questo momento con il bisogno di punti per restare nei venti che a musetti questa è un'occasione nel tabellone la seconda testa di serie e ivans che è ampiamente su terra alla portata del nostro lorenzo quindi io spero che musetti possa andare avanti mi auguro che prenda seriamente questo torneo perché questo torneo un'occasione di fare punti che probabilmente a monte carlo non avrà perché non essendo testa di serie al secondo turno avrà già un giocatore molto forte qua i giocatori molto forti non ci sono e i punti insomma un quarto di finale a monte carlo vale 180 punti e sarebbe una sorta di miracolo visto il il musetti attuale qua una vittoria qua che sono più o meno le stesse partite perché ottavi quarti semifinali finali un ottavo a monte carlo vuol dire vincere vuol dire giocare tre partite qua vincerlo vuol dire giocare 4 ne vale 250 e oggettivamente la difficoltà è molto minore quindi poi per il resto bene ripeto questa è la settimana delle seconde leve seguiremo anche esattamente questi tornei ho fatto questo video giusto perché ci sono state tre vittorie italiane una era scontata ripeto perché c'era il derby ma le altre due assolutamente no siccome questo canale supporta sempre gli italiani è giusto supportare anche gli italiani in difficoltà come fognini che comunque sono stati la nostra storia recente la nostra storia recente del tennis sia le nostre giovani leve perché da questi tornei si cresce si sale in classifica si entra nei tabelloni sia giocatori in difficoltà oggettivamente come musetti che da questi tornei potrebbero trovare fiducia per poter fare bene nei tornei maggiori io vi ringrazio vi auguro una buona giornata un buon martedì ci vediamo forse stasera per commentare quello che è successo nella giornata vediamo un po che risultati ci sono altrimenti ci vediamo quando gioca musetti e quando li giocano i nostri azzurri ciao a tutti ancora buona giornata iscrivetevi al canale lasciate like al video attivate la campanella ciao ciao ciao